Era 2 dicembre del 1991, eravamo a Cagliari al congresso nazionale sull'AIDS e il giorno prima era uscita sul mattino di Napoli un titolone, l'AIDS si trasmette con la saliva e io e Fernando eravamo molto scoraggiati e eravamo anche un po' incazzati perché evidentemente non riuscivamo a far passare il concetto che scientificamente non era così, scherzando dicendo ma cosa possiamo fare, l'unica roba potrebbe essere baciarsi. Che è nata un po' per gioco, poi ci siamo guardati e abbiamo detto vabbè facciamolo. Sapevamo che era una foto che avrebbe rotto tanti tabù e che avrebbe dato una risposta a quelle che noi oggi definiremo fake news, ma che addirittura si ricevesse messaggi dal Giappone, dagli Stati Uniti perché fece oggettivamente il giro del mondo. No, in più una decina d'anni fa, 10-11 anni fa, a una cena con Fernando, mi ricordo, ci siamo proprio detti, beh quando moriremo ci ricorderanno per il bacio. Fernando da un punto di vista sociale è stato il primo a capire che l'AIDS non era solo una malattia virale scientifica, ma che era una malattia soprattutto ad impatto sociale. Quindi è stato il paladino e nei ministeri, in tutti i tavoli, lui ha sempre portato la questione sociale legata alla questione scientifica. Quello che io vorrei assumere dalla morte di Fernando è che paradossalmente io sono convinta che lui in questo momento è molto contento del fatto che dalla sua morte si ricomincia a parlare di l'AIDS. Io mi auguro che non cada questa attenzione sull'AIDS. Oggettivamente gli ultimi governi non hanno fatto niente per l'AIDS, hanno tolto tutti i fondi per la ricerca clinica, non hanno più fatto campagne di prevenzione. La parola profilattico non è neanche più messa nei documenti, quando nella comunità gay si stanno aumentando le nuove infezioni da HIV, quando il mondo eterosessuale se già prima non si sentiva coinvolto, oggi ancora meno. E noi abbiamo 4.000 nuovi casi di infezioni l'anno, abbiamo decine di migliaia di persone che probabilmente ce l'hanno e non sanno di averlo. Vuol dire che tutto quello che noi abbiamo acquistato, quelle battaglie che abbiamo fatto con Fernando, purtroppo tutto quel capitale lì si è un po' perso in questi anni. Sarebbe bello prenderlo anche con la contemporaneità, quindi dei social, di altre forme di comunicazione. Però i giovani e coloro che hanno legittimamente voglia di fare l'amore devono sapere che possono farlo diciamo usando un profilattico che costa 50 centesimi. Grazie.